Dunque inizio anno da incubo, soliti gravi errori, il Pescara dura solo 30 minuti, poi sparisce, in realtà nulla di nuovo, la Juventus Under 23 fa un figurone al mocca gatta di Alessandra si pone 4-3, sconfitta assolutamente in attesa anche e soprattutto per quanto visto nei primi 30 minuti. Ritmo, pressione alta che non permette ai giovani della Juventus di ragionare, il vantaggio firmato da Cangiano, prima e dopo due occasioni limpide altrettante potenziali per raddoppiare insomma piano partita almeno fino a quel momento impeccabile, poi ma troppo presto la luce si spegne e i biancazzurri spariscono inopinatamente dal campo, nella ripresa una sola fiammata con tifatti estemporanea che porta al 2-2 di Cuppone, fase difensiva lacunosa e solite disattenzioni su palla inattiva. Centrocampo per caratteristiche non funzionale al calcio predicato da Zeeman nel reparto nevralgico, giocatori adattati, pur tuttavia non è accettabile perdere in questo modo, prendendo 4 gol contro un avversario di talento sì, ma verdissimo e inesperto. Lo abbiamo sempre detto, lo ribadiamo, la dimensione del Pescara è certificata dai numeri e dunque dalla posizione in classifica. Nessuna sorpresa, ma nelle ultime due uscite contro Fermana e Juve Under 23, in parte anche con l'Ancona, i biancazzurri hanno totalmente deluso le attese. Continuare a ripetere che questa rosa è più competitiva, più forte di quella dello scorso anno, sa di presa in giro, anche piuttosto clamorosa.